Sono il professor Giuseppe Morgia, professor ordinario all'Università di Catania, di studi di Catania e stamattina insieme al professor Antonio e al professor Castiglione abbiamo impiantato due protesi peniene per problematiche di disfunzione erettile legate al primo paziente, una problematica di carattere vascolare, il secondo invece un paziente che era stato trattato per tumore prostatico e poi il radiotrattato per completamento del paziente stesso per la patologia oncologica. Quello che mi ha colpito è stata la velocità del professor Antonini, primo intervento durato circa 20 minuti, il secondo 25 minuti con un accesso infrapubbico, un'unica incisione e ripeto un tempo estremamente veloce, nessun sanguinamento, presenza di una diciamo perfezione chirurgica direi quasi capillare, devo dire che quello che è stato anche estremamente interessante è il fatto che alcuni tempi che sono classici delle protesi come per esempio la dilatazione mi ha colpito che non è stata fatta, così come anche una serie di procedure diciamo che normalmente vengono utilizzate sono state molto semplificate nell'ambito di questo intervento, devo dire che è stata un'esperienza di carattere veramente entusiasmante e sono convinto che i pazienti ne avranno un grandissimo aggiovamento.